Amo, qualcosa è iniziato ad arrivare, cos'è? Qualcosa, questo è un antipastino, di pesce, tutto crudo qua c'è, salmone, cozze gradinate, polipo, certo, tonno, ma ancora che manca? La frittura di paranza? Servioline, questo è un ciciretto, che è un pochettino più grande, ma con quest'occhio ti mangio anche l'occhio? Certo, guardate come si mangia, si prende, no, che c'era l'occhio, anche l'occhio vuole la sua mamma, vabbè ragazzi, a tra poco, ovviamente ovunque io vada, come bambini, le patatine fritte, giusto Amo? E allora, calamari per il conte, scelto, fatti buoni con la farina di grano, la farina di grano e io invece pennette, gamberi e pesce spada, ma voi ormai lo sapete, scelto, io inizio a mangiare, si lui mangia, lo sapete che io devo fare una cosa con la pasta col pesce, no? Scelto, scelto, non mi dite che non ci sta, non si mangia, per chi non mi interessa, a me mi piace, ci ho meglio, scelto, guardate che meraviglia ragazzi, guardate che meraviglia Va bene, buona cena, scelto, scelto